Grazie, grazie a tutti. Sì, ho infatti integrato un po' gli appunti dell'intervento in base all'intervento che mi hanno preceduto. Ringrazio intanto Anci Toscano ovviamente e tutti voi e colgo anche l'occasione per ringraziare tre persone grazie alle quali insomma sono qui oggi che sono Andrea Pucci, Luca Raiteri e Alessandro Vignozzi. Dunque partecipazione è democrazia. Parto dicendo che la partecipazione è il sale della democrazia. Ci sono vari tipi di partecipazione come sappiamo generalmente quella classicamente intesa è la partecipazione elettorale, attornate elettorali o referendari e qui parliamo di un altro tipo di partecipazione. Tuttavia, come è già venuto fuori, anche di questo tipo di partecipazione ci sono modalità e declinazioni molto differenti, modelli differenti di partecipazione. Allora, l'associazione che rappresento qui, O prossima democrazia, laboratori deliberativi, anche se ovviamente non soltanto lei, promuove un certo tipo di processo partecipativo che è quello del mini pubblico deliberativo, altrimenti detto, come è già stato ricordato all'esponente dell'IP2, Assemblea dei Cittadini deliberativa. Allora, due parole sul modello. È un modello che sta, diciamo, sollevando molta curiosità, soprattutto in Italia e questo diciamo non ne siamo felici, stiamo spero contribuendo anche a questo. Perché? Perché ha vent'anni ormai di diffusione, di exploit in giro per il mondo, in giro per l'Europa, in particolare anche in Unione Europea. Io credo che l'Italia sia tra i pochi paesi dell'Unione Europea ormai ad avere un'esperienza recente, soprattutto negli ultimi anni, a ciascun livello. Un'esperienza, un modello che si diffonde a tutti i livelli amministrativi, a partire dal locale, dal municipale, fino a livello regionale, livello di stati federati, livello nazionale e attenzione anche a livello addirittura transnazionale. La conferenza sul futuro dell'Europa, un processo che si è concluso il 9 maggio, è stato rifatto il più grande processo deliberativo della storia, appunto sul modello del mini pubblico deliberativo. La curiosità nasce dal fatto che ci siano alcuni elementi che lo caratterizzano e che si discostano un po' dal modello partecipativo classicamente inteso. L'idea che ci sia un campione di cittadini estratto a sorte dalla società in modo da rappresentarne, diciamo, la composizione socio-statistica e che si è messo nelle condizioni di affrontare giornate di lavori in cui si ha una formazione, un confronto con personale esperto e tecnico, un confronto con gruppi di interessi, stakeholders, portatori di interessi, un dialogo, una ricerca, diciamo, del consenso senza necessariamente andare, per esempio, all'elemento del voto, gruppi di lavoro facilitati, quindi l'elemento della facilitazione è tornato anche prima, che è centrale. Tutto questo per produrre raccomandazioni, visioni, che ovviamente vanno poi agli amministratori, che, diciamo, sono chiamati entro un tempo definito a rispondere a queste raccomandazioni, diciamo, in modo scritto e più che scritto spiegandone i motivi, diciamo, di accoglimento o meno. Ecco, tutto questo, appunto, si sta si sta diffondendo, si sta diffondendo soprattutto su determinate tematiche, che sono grandi tematiche di interesse generale. Penso, ad esempio, alle grandi questioni etiche, magari più facilmente affrontabili a livello nazionale, aborto, eutanasia, matrimoni omosessuali, cito per l'appunto esempi di assemblee in giro per il mondo, e poi il grande tema di questi tempi, che è ovviamente la sfida ambientale, no? La sfida climatico-ecologica, quindi come proteggere la biodiversità, Irlanda in questo momento, come migliorare la qualità dell'aria. Tutte tematiche che, se ci riflettiamo bene, sulle quali la politica elettorale, classicamente intesa, spesso può avere difficoltà ad affrontare, a trovare soluzioni di lungo periodo. Qualcuno prima parlava proprio di questo, perché c'è un grande problema, è oggettivo, non dobbiamo nasconderci, per, diciamo, gli amministratori, per i politici, che è legato al livello del medio-breve periodo, ovvero la scadenza elettorale. Cioè, su certe tematiche in particolare, prendere decisioni per il lungo periodo comporta quasi sicuramente un rischio grandissimo di perdita di consenso per il medio e breve periodo. Ecco perché coinvolgere, sin dalla fase iniziale, qualcuno parlava anche di quando si fa la partecipazione, ecco, sin dalla fase iniziale i cittadini nelle decisioni produce, diciamo, decisioni migliori e, se vogliamo dirlo, può sollevare anche gli amministratori e politici da prendere, appunto, decisioni di questo tipo per loro, per così dire rischiose. Quindi, non è un caso, e sottolineo, chiudendo, diciamo, sul tipo di modello che qui, appunto, che presento, non è un caso, attenzione, che questo modello sia l'unico modello di processo partecipativo che, in alcuni casi nel mondo, si è fatto istituzione. E questo in pochi lo sanno, ma è fondamentale. Cioè, ci sono realtà, nel mondo e in Europa soprattutto, e parlo di città, metropoli del calibro di Parigi, Bruxelles, Lisbona, parlo addirittura di uno Stato federato del Belgio, che in realtà più che uno Stato è una comunità, una comunità linguistica, ma comunque, secondo l'assetto costituzionale del Belgio, è uno Stato federato, che hanno trasformato l'Assemblea dei Cittadini, quindi un processo partecipativo, in un'istituzione. Un'istituzione che affianca l'istituzione eletta. Quindi, a fianco del Consiglio Municipale, a Parigi faccio per dire, all'interno del Consiglio Municipale di Bruxelles e a fianco del Parlamento regionale dello Sbelgien, la comunità germanofona del Belgio, esiste un organo, in Osbelgien addirittura due, che sono assemblea dei cittadini, cioè sono composti da cittadini stati assorti e dalla popolazione, che ovviamente rimangono in carica, permanenti in che senso? Non nel senso che il cittadino è permanentemente in carica, no, anzi, la durata del mandato è inferiore a quella degli organi elettivi, generalmente intorno all'anno, ma l'organo è permanente, cioè esiste un organo deliberativo accanto all'organo di demorazione rappresentativa. Quindi, ecco la potenzialità, no, che negli ultimi due o tre anni questo strumento ha avuto, nonostante, peraltro dico, anche il Covid. Durante il Covid, molti si spaventarono, oddio, abbiamo processi in corso, penso a Danimarca, faceva l'assemblea proprio sulla protezione climatica, e l'hanno riconvertite. Quindi sono nati anche processi ibridi, ovviamente la deliberazione online non è la stessa della deliberazione fisica, però ecco, nonostante il Covid, questo tipo di processo è andato avanti. Descritto il processo, ci tengo a concludere con un punto, che è un punto, per così dire, un po' più normativo. Spesso appunto la domanda, la reazione che viene parlando del mini pubblico deliberativo è quale possa essere l'aggancio, l'attinenza all'ordinamento italiano. Allora, quello che noi riteniamo è che non solo l'attinenza ci sia, non potrebbe essere diversamente, insomma, anche perché come esiste e viene praticato in tutti gli altri paesi, diciamo, dell'Unione Europea, non vedo perché non possa avere attinenza qui, ma dirò di più che, a nostro avviso, è questo processo, modello di processo partecipativo, è quello che meglio risponde a determinati, diciamo, dettami costituzionali e di certe norme che fanno, che rendono la partecipazione in talunque caso addirittura obbligatoria per le amministrazioni pubbliche. Ovviamente è obbligatorio, non per i cittadini partecipare, ma per le amministrazioni pubbliche far partecipare, che sono norme che sono entrate nel nostro ordinamento in seguito a convenzioni internazionali per tramite dell'articolo 117 della Costituzione. E questo perché? Perché il mini pubblico deliberativo e l'Assemblea dei Cittadini sono uno strumento che meglio adempie a questo? In base a due principi costituzionali che sono il principio di ugualianza e il principio di imparzialità. Articolo 3, 97 della Costituzione. Il principio di ugualianza ci dice che tutti i cittadini sono uguali e che la Repubblica deve rimuovere quegli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica. Ecco, quindi esistono degli ostacoli. E come si rimuovono? Nel caso della partecipazione, il mini pubblico risponde a questa domanda. E poi l'imparzialità. Partito dal 97, buon andamento... Cosa vuol dire imparzialità? Banalmente vuol dire cercare di non favorire nessuna parte, no? Però le parti della nostra società sono pressoché infinite, no? Come si fa a distinguere... Qui non si può neanche coinvolgere tutti allo stesso tempo, tipo agorate, miese. Ecco che diventa fondamentale chi va a partecipare e in che termini di rappresentatività si pone rispetto a tutti quegli altri che non stanno partecipando. E questo è venuto fuori anche prima. Il mini pubblico deliberativo va in qualche modo a superare quelle che sono, verrebbe da dire, diciamo, i difetti, o comunque le distorsioni, dei processi partecipativi più classici. Quelli ad autoselezione, quelli ad open door, quelli a porta aperta, in cui finiscono per partecipare quelli che la letteratura chiama gli usual suspects, cioè i soliti noti. Coloro che hanno tempo, risorse necessari e interessi in gioco preponderanti. Questo non mi dilungo perché già da altri è stato sottolineato. La potenzialità del pubblico deliberativo è questo, quello di riuscire attraverso la sorte che non guarda in faccia a nessuno e anche al campionamento che è stratificato e quindi cerca di creare una rappresentatività quanto più forte, no, del gruppo rispetto alla società rispetta, diciamo, quel principio di uguaglianza. Questo per i cittadini e per le amministrazioni riesce a dare risposta in termini di quell'imparzialità proprio in forza di quell'ugualdianza, di quella rappresentatività di quei sopra. Grazie mille. Grazie. Grazie. Questo è effettivamente un aspetto molto interessante. Ora passiamo. Grazie a tutti. Grazie.